Apparenza e sostanza, questa è la sfida vera. Lo dice perlomeno Francesco Pionati, già mezzo busto Rai, oggi segretario nazionale di Alleanza di Centro, in campo con la sua lista, che tiene insieme PLI, DC e Movimento Caccia e Territorio, con cui sosterrà il candidato del PDL Rocco Palese alla presidenza della Regione Puglia, sfidando, ha detto Pionati, la soglia del 4%. Noi, ha spiegato, abbiamo un candidato Rocco Palese, del quale parlano bene alleati e avversari, che conosce quello che va fatto e sa come farlo per il bene della Puglia. Dall'altra parte ci sono solo chiacchiere e poesia, ma non si vive di poesia. Io credo che i pugliesi siano troppo intelligenti per preferire il fumo all'arrosto che solo Palese e la sua ricetta sono in grado di fornire a questa Regione. Io vengo dall'Udc, oggi l'Udc è in una terra di nessuno, il voto all'Udc è un voto sprecato che serve solo ad ostacolare il centrodestra ed aiutare la sinistra. E allora io provocatoriamente dico agli elettori di quel partito, alla fine votate direttamente Vendola senza l'ipocrisia di questa terra di mezzo che non serve assolutamente a nessuno. È un valore aggiunto importante perché non è solo un valore dal punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo con motivazioni di evitare che si continui questo malgoverno in Puglia di Vendola che ha disastrato la Puglia in questi cinque anni con le tasse, con i fondi europei bloccati, con i rifiuti che non sono stati risolti i problemi, le discariche che aumentano sempre di volume, che sono delle vere e proprie bombe ecologiche. Dall'altra parte del campo di battaglia Nichi Vendola parla di energia rilanciando ancora una volta il dibattito sul nucleare ma anche e soprattutto sulle fonti alternative. I poteri concorrenti diventano talvolta poteri contendenti e qualche volta persino poteri contundenti, dice il candidato presidente del centrosinistra. In sostanza la materia energetica è esclusivamente regolata da norme comunitarie e nazionali e quindi, ha spiegato, quando il decisore politico regionale, per esempio, prevede un intervento di moratoria sulle autorizzazioni in materia di energia eolica perché teme uno sviluppo deregolamentato, selvaggio, con un indotto corruttivo notevole, propone un gesto che il giudice costituzionale considera improprio, come dire, sulle fonti alternative, quelle che devastano il paesaggio, la regione ha le mani legate. Ma proprio sul nucleare, invece, si registra una novità importante. A lanciarle è Adolfo Urso, il viceministro dello sviluppo economico che già in tempi non sospetti aveva escluso la Puglia ad eventuali insediamenti. Un referendum consultivo in tutte le regioni è l'idea per conoscere il parere dei cittadini e degli enti locali su un'eventuale presenza di centrali nucleari sul loro territorio. Una proposta semplice che potrebbe però essere l'uovo di Colombo nella polemica atomica che già si è affacciata nel dibattito della campagna elettorale.